Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video, video nel quale come vedete siamo nel classico posto con moscerini con un'altra auto da provare, auto in questione che è la Seat Ibiza Model R 2022 che come potete vedere ha l'allestimento FR, auto che monta il motore 1.000 tre cilindri 90 cavalli 160 newton metri di coppia perché questa è a metano, essendo a metano ha un serbatoio di benzina di 11 litri all'incirca e un serbatoio di metano di 13-14 chili su per giù, con un'autonomia generale sui 500 chilometri, chilometro più chilometro meno a seconda di come avete il piede. Essendo l'allestimento FR è molto ben accessoriata, monta il pacchetto dei dei fari full led, i cerchi da 17 con spalla dello pneumatico da, se la riesco a trovare, 2.15 45 17. Monta all'interiore l'impianto frenante a disco, al posteriore monta i tamburi. Auto che viene costruita sulla piattaforma MQB A0, essendo la MQB A0 monta il schema sospensivo all'interiore del classico McPherson e al posteriore il classico ponte torcente. Essendo una citycar auto lunga 4 metri e 6 centimetri, larga 1,76 m e alta 1,44 m. Detta così sembra abbastanza spaziosa, passiamo a vedere gli interni. Gli interni come vedete sedile impostato sulla mia altezza, come sapete io sono alto 1,80 m e forse il sedile si potrebbe un po' abbassare, eccolo. Motorizzazione che monta il cambio manuale a 6 marce con innesti molto secchi, molto corti che danno un feeling molto piacevole. Passando alla plancia come potete vedere la parte superiore è bella morbidina, al tatto è molto piacevole, per poi andare un po' più in basso con questa, moscerini, con questa trama, trama che poi questa plastica satinata color alluminio molto molto carina. Poi come potete vedere questa cornice rossa attorno alle bocchette, le bocchette laterali come potete vedere avendo questa cornice rossa si illuminano di notte di due colori o rosso o bianco a seconda della scelta. Per quanto riguarda i sedili sono molto contenitivi, come potete vedere sono in ecopelle misto microfibra, sono ben contenitivi e risultano essere anche abbastanza sportivi. Dopo quando andremo a fare la prova guidata andremo a testarli e vedere. Ripassando alla plancia troviamo il clima bizona, il volante in pelle molto sportivo con parecchi comandi al volante, ma come potete vedere sono molto simili a quelli del formentor, a parte che qui non ci sono alcune robe. Versione in particolare che monta, essendo l'allestimento FR, monta lo schermo più grosso che si possa avere, 9 pollici e qualcosa. Qui davanti non abbiamo il cockpit digitale, ma abbiamo il cockpit misto, ovvero con i contagiri e i chilometri orari in analogico e con lo schermetto centrale in digitale. Passando ai pannelli porta sono molto croccantini, come potete vedere il design del pannello porta è fatto bene, ha una bella trama. Ha nella parte superiore materiali, come potete sentire materiali belli croccanti e che ritroviamo anche nella parte inferiore. Però alla fine la parte inferiore è la classica, il classico pannello che monta anche il formentor. Passando poi alla parte centrale dove troviamo l'ecopelle che è morbida al tatto e che dà un certo gusto. Auto in questione che monta anche il lane assist, il rilevamento della stanchezza, i sensori posteriori e il front assist. E adesso vediamo come si sta nella parte posteriore. Parte posteriore che come potete vedere, essendo una city car qualcuno si potrebbe aspettare meno spazio, ma alla fine lo spazio per le gambe c'è, anche per la testa abbiamo quei 5 cm abbondante. Poggia a testa li abbiamo tutti e tre. Per quanto riguarda i pannelli porta, qui dietro abbiamo un pannello porta completamente bello croccante, ruvido, sia nella parte superiore centrale che inferiore. Però questo è il classico pannello delle city car. Passando poi ai sedili, anche qui sono ecopelle misto microfibra e sono anche questi ben fatti e abbastanza contenitivi. Per il resto, come potete vedere, abbiamo il tunnel centrale che purtroppo per essere una city car è abbastanza abbondante, forse troppo ingombrante. Parliamo di un'altezza all'incirca di una spanna che per una city car, essendo questa omologata per 5 persone, comunque è un po' altina. Infatti il quinto passeggero, quello centrale, è un po' sacrificato visto che anche il sedile nella parte centrale è un po' più rialzata. Passando poi al bagagliaio, essendo questa una versione a metano e avendo presente nel sottofondo qui del bagagliaio la bombola di metano, non abbiamo il doppio fondo e il bagagliaio scende da quei classici 300 e qualcosa litri nelle versioni a benzina normali, scende sui 260 proprio per la presenza della bombola. Per il resto, bagagliaio molto ben rifinito, con forme abbastanza regolari, l'unica pecca è che non abbiamo qui lo scontrino per chiudere, per nascondere la chiusura del bagagliaio. Forse accesso un po' stretto nella parte bassa, ma comunque essendo una city car, per permetterci la spesa e le cose di tutti i giorni, come potete vedere qui abbiamo certe un po' di robette, va più che bene, diciamo nella media. Direi che finita la parte statica andiamo a guidarla e vedere come si comporta quest'auto su strada. Primi chilometri fatti, sono uscito proprio poco fa, siamo a metano in questo caso qui e vi devo dire che questo tre cilindri 90 cavalli spinge parecchio. Io ci sono salito anche altre volte. Da passeggero non sembrava che spingesse così tanto, invece quando sei alla guida l'auto ha quel brio che, nonostante essendo a metano e avendo 90 cavalli e essendo un tre cilindri, comunque dà un po' di soddisfazioni. Partendo dal comfort alla guida, comfort alla guida molto buono, anche se abbiamo i cerchi da 17 con spalla dello pneumatico da 45, l'auto assorbe bene. Siamo passati appena sul ponte e i giunti del ponte qui per il Monte Conero sono sempre ben, ecco qui ce n'è uno, sono sempre ben accentuati ma nonostante il cerchio grosso e spalla dello pneumatico piccola, l'auto assorbe comunque bene le asperità. Non sento rollio nelle curve e però c'è da dire che è molto bassa come macchina. Il motore entra nell'abitacolo sopra i 2000 giri, si fa un po' sentire. Sedili molto, molto confortevole e vi devo dire anche molto, molto contenitivi. Il volante forse non è proprio diretto, vi devo dire la verità. Pensavo fosse un po' più diretto facendo conto che è l'allestimento FR e come sappiamo tutti l'allestimento FR è anche leggermente ribassato di solito. Siamo a 50 all'ora, in sotto i 50 all'ora, in quarta a 1500 giri, chiacci e l'auto comunque riprende abbastanza bene. Quindi questo motorino per questa vettura qui è molto ben azzeccato. Adesso non mi ricordo quanto pesa ma penso che stiamo intorno a un peso di 1200 kg. Siamo su un ponte, come potete sentire, qui i giunti non sono messi bene per niente ma nonostante ciò, nonostante i giunti siano molto, molto secchi. Non gli trasmette quella secchezza nell'abitacolo, con la botta nell'abitacolo che fanno altre vetture. Non ha la retrocamera però ha i sensori. Mi piace molto guidarla, vi devo dire la verità. Volante molto sportivo col taglio in basso e che dà molto gusto. Ecco, ha velocità un po' più sostenute e il volante risulta essere molto, molto diretto. Al contrario di quello che è alle velocità basse però alla fine alle velocità basse non c'è bisogno che sia così diretto. L'auto che consiglio ha un pubblico giovane, un pubblico che viaggia tanto in città, che non ha bisogno di macchinoni grossi, che ha bisogno di una macchina il giusto perché comunque essendo una city car non è nemmeno una city car molto molto piccola ma non è nemmeno gigantesca quindi a livello di abitabilità è molto molto buona, a livello di spazi interni per un uso cittadino è molto molto gestibile. Non è nemmeno impegnativa a livello gestionale perché questa essendo a metano nella regione Marche beneficia della riduzione del bollo. Penso anche qualcosina dell'assicurazione ma non ne sono sicuro. La consiglio a un pubblico addirittura che comincia adesso ad approcciarsi magari anche qualcuno che ha preso da poco la patente e la vorrebbe prendere come prima macchina. Versione in questione con questo motore che è anche guidabile dai neopatentati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale che piano piano stiamo crescendo e questa cosa mi fa parecchio piacere. se avete domande sulla vettura comunque la vedo spesso e fatemele nei commenti che io vi rispondo e se mi sono scordato di dire qualcosa fatemelo presente nei commenti o se volete che dico qualcosa in più delle vetture datemi qualche consiglio sotto i commenti dei video. Per il resto io vi ringrazio di aver visto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale continuiamo a crescere. Lasciate like commentate i video e arrivederci e al prossimo video.